Sono un'esperta del settore dei musicisti, non mi occupo di questo e non faccio questo nella vita, però penso che oltre ad avere una buona tecnica trasmetti anche tanta passione che penso che sia la cosa principale in un buon musicista e suonatore, quindi complimenti in bocca al luco. Bravissimo! Lui è arrivato a Villa Latina. Vorrei fare un applauso grande a coloro che hanno organizzato l'evento e soprattutto a questi ragazzi che si stanno per esibire, che sia noi giovani, ma loro giovanissimi portano avanti le radizioni delle nostre terre. Grazie a tutti! Accompagniamo con le mani. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!